Il Vangelo di oggi ci ricorda che la sapienza del cuore sta proprio nel saper coniugare questi due elementi, la contemplazione e l'azione. Marta e Maria ci indicano la strada. Se vogliamo assaporare la vita con gioia, dobbiamo associare questi due atteggiamenti, da una parte lo stare ai piedi di Gesù per ascoltarlo mentre si svela il segreto di ogni cosa, dall'altra essere premurosi e pronti nell'ospitalità. Quando Lui passa e bussa alla nostra porta con il volto dell'amico che ha bisogno di un momento di restoro e di fraternità, ci vuole questa ospitalità.